La ferrovia del sud-est con uno sviluppo di 474 km di litro costituiscono la ferrovia secondaria più estesa d'Italia. La rete si estende da Bari sino al capo di Santa Maria di Leuca, punto estremo della penisola Salentina. Collega direttamente i tre capoluoghi di Bari, Taranto e Lecce e serve altri 73 comuni. Questo video è dedicato ad una serie di rotabili che hanno caratterizzato gli ultimi 40 anni di vita delle FSE e che sempre più di frequente vengono sosseguiti da automotrici più recenti e dai moderni complessi binati gruppo 120. Grazie.